La temperatura di Combo è andata a 8-10 gradi, dell'asimo e della cavalla. Questa di sinistra mi ha dato sempre fastidio perché probabilmente c'è il monte diverso. Metti il profilo, piglia adesso che è quello migliore. Aiuto! Mi ha ripresa? Ciao! Il collaudo ci vuole prima. Cerca il faro di 10 giorni, rischia di rovinare. Non è forte così, sembra un po' con le conna. Si si è vero, aspetta un po'. Sempre con la bottiglia, mi raccomando. Elena. Ah, io. Tengo io la cucina. Questa bene! La merda porta a me! Oh! Quanti cose che sto facendo? Quanti cose che sto facendo? Quanti sto facendo? Questa bene!